Sono arrivata a Teano, Caglianello, Teano, quindi la strada è pulita, come vedete, ma c'è neve anche qui, spolveratina di neve anche qui, ebbene sì, neve, neve, neve. L'autostrada però è libera, la strada è buona, si viaggia tranquilli, e adesso aspettiamo di entrare in tangenziale a Napoli, ci vorrà ancora un po', però diciamo che fino adesso il viaggio è più che ottimo, a dopo, ciao!